Il CT Euro è in difficoltà e Blasim e tira giù la saracinesca, perfetto in uscita, gelido sui due tiri liberi parati, consente ai suoi di tornare a casa con tutti e tre i punti. Terza volta per lui nella Top Players, titolato! Fondamentale nella trasferta di Colleferro, guida i suoi alla rimonta, forte fisicamente e preciso col destro, non lascia scampo al portiere, cilipo!